Tra le misure in discussione durante l'ultimo Consiglio Comunale di Biella al Teatro Sociale Villani, un punto importante approvato all'unanimità. Una convenzione della durata ventennale per un impegno economico di 75.000 euro l'anno a favore dell'Università Cittadina. Implementazione di nuovi corsi, rendere più attrattivo il nostro Ateneo, questo l'obiettivo. Qual è il nostro ruolo come Comune? Cioè che cosa può fare il Comune a parte pagare i 75.000 euro all'anno per i prossimi 20 anni per far sì che questa opportunità che ci si presenta davanti di stipulare questa nuova convenzione con l'Università di Torino si traduca poi effettivamente in un elemento di sviluppo per la città. In Commissione l'assessore ci ha detto che l'Università ha fatto delle proiezioni e stima che quando la nuova offerta formativa sarà a regime su tutti i cinque anni di corso avremo circa mille studenti potenziali che verranno a frequentare i corsi erogati a cittastudi. Cosa possiamo fare noi per cercare che quella proiezione si trasformi in realtà? Questo era un po' il tema che avevo posto in Commissione. Allora, nella Convenzione c'è scritto che questo è l'impegno che si prende l'Università per fare questa attività sui corsi ma non sono specificati. Cambierebbe qualcosa? Modificano rispetto a una previsione che potrebbe diventare appetibile con magari un altro tipo di corso che viene presentato in alternativa? Lo chiedo anche perché il corso di chimica tessile che è quello che forse è quello più specifico e più caratterizzante nel nostro territorio sarebbe importante se venisse supportato o sponsorizzato anche da Unione Industriale nel senso che ovviamente dovrebbe essere un partner di questo tavolo di erogazione fondi e non soltanto. Anche se passo un po' in sordina, invece penso che questa sia una delibera fondamentale sia una delibera fondamentale e vorrei motivare perché è così importante secondo noi un po' l'avevamo detto tutti in campagna elettorale ma proprio uno dei punti della nostra proposta agli elettori era proprio basato sullo sviluppo dell'università a città studi per un ragionamento non meramente diciamo così di sviluppo dell'università in sé ma per un ragionamento di sviluppo della città cioè noi siamo convinti che di fronte a una città che ogni anno perde abitanti sia necessario provare a innestare energie nuove, energie fresche e l'idea di giovani che arrivano da fuori e che magari possono contribuire anche solo per due anni, tre anni, quattro anni alla vita della nostra città ci sembrava un'idea importante diversi gli interventi che hanno sollecitato le risposte dell'assessore competente sicuramente i soldi non sono mai spesi male per quanto riguarda l'offerta formativa certo è che bisogna avere la possibilità di migliorare e di creare nuove corsi per rendere sempre più appetibile quella che è la nostra università e comunque sia il nostro territorio